E' sempre più connessi ma spesso soli online. I ragazzi possono diventare vittime di chi tenta di capirne la fiducia contro gli adescatori, costante l'impegno della polizia postale e delle comunicazioni. Micaela Barilari. Un ragazzo su due durante la pandemia ha trascorso almeno otto ore al giorno, comprese le lezioni davanti agli schermi. Il tempo che i ragazzi passano davanti ai loro device li fa diventare quelli che sono i soggetti più deboli dei fruitori del web. Online, spesso da soli, possono diventare vittime di chi cerca di adescarli. A volte l'abusante invia materiale pornografico e pedopornografico al ragazzo quasi per normalizzare, per costruire una situazione, una relazione pseudo-affettiva e per normalizzare un rapporto che normale non è. Spesso alle lusinghe si accompagnano doni, importante dunque che genitori e insegnanti sappiano cogliere certi segnali. Possono constatare un atteggiamento troppo adultizzato da parte del ragazzo, oppure il fatto di ostentare delle cose troppo costose rispetto a quello che accadeva prima. La polizia postale contrasta i predatori, sia monitorando la rete, sia svolgendo complesse indagini informatiche sulle segnalazioni. Piuttosto che l'impronta digitale sul muro, piuttosto che sulla macchina o sull'arma da fuoco, dobbiamo trovare le impronte e le tracce del reato all'interno della rete internet e sui dispositivi in uso alle persone che poi individuiamo come sospette quando poi sviluppiamo un'attività di perquisizione nei loro confronti. Indagini che permettono spesso di individuare altre vittime o altri potenziali abusanti, fondamentale per prevenire i rischi e il legame con i ragazzi. Un rapporto di fiducia, ma anche un rapporto in cui il ragazzo deve parlare con il genitore, il genitore deve cercare di far capire quali possono essere i rischi, devo dire che in questo sono molto attenti anche gli insegnanti.